Musica Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale Io sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video Siamo nel terzo episodio di One Piece Pirate Warriors 3 E quest'oggi siamo pronti ad affrontare la banda del pirata Buggy Ma prima di iniziare ragazzi vi ricordo come al solito Che a raggiungimento dei 60 like si avrà il prossimo episodio Quindi ragazzi direi di iniziare subito questo episodio Rufy si divide da Kobe che riesce ad avrò l'arsene marine E aggiunge lo spadaccino Zoro alla sua ciurma Continuando il viaggio alla ricerca di One Piece Spiegando le vele verso la rotta maggiore Ma i due non hanno alcuna conoscenza della navigazione E il disastro si ripete Rufy viene portato via da un uccello e perde di vista Zoro In breve tempo Rufy raggiunge una città sconosciuta Lì incontra Nami, una ladra specializzata nel derubare i pirati Nami ha rubato una mappa nautica alla ciurma di Buggy il Clown Ed è perciò ricercata da loro Quando Rufy scopre le incredibili capacità di navigazione di Nami Le propone di unirsi alla sua ciurma come navigatrice Nami accetta ad una condizione La condizione è che lui la accompagna al covo di Buggy Rufy acconsente e Nami lo porta in un negozio Che era stato rilevato dalla ciurma di Buggy Ma... Rufy accontra 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 Ok siamo quindi in gioco e siamo pronti ad iniziare questa missione Dobbiamo sconfiggere la ciurma di Buggy il Clown Quindi allora Dove dobbiamo andare? Vediamo un po' di fare un po' di due giusto appena ci danno la nostra nuova missione perché sinceramente non so cosa fare, dove andare non so niente allora occupa il territorio nemico quindi mi sa che dobbiamo occupare questo territorio allora ok che sono contro le nemiche conquista quelle nemiche e fa nel territorio ok ho capito va bene più o meno ho capito dobbiamo distruggere praticamente questi qui e quindi occupare il territorio quindi allora vediamo di distruggerli allora vorrei fare un cambio vorrei provare Zoro che però non so come fare a cambiare allora vabbè facciamo un rifle subito ok forse mi sono ricordato come fare a cambiare con Zoro no non mi sono ricordato per niente allora vediamo un pochino credo che stiamo riuscendo ad occupare il territorio no? perché vedo la barra rifugio d'emergenza che si alza però non so se dipenda da questo va allora proviamo a distruggere gli ultimi vediamo che succede ok abbiamo occupato il territorio ah ecco il capo ok quindi dobbiamo distruggere lui credo no? ok quindi abbiamo conquistato il territorio sconfiggendo il capo quindi proviamo ad andare avanti allora sconfiggi il capo del territorio che sarebbe allora qui abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare ora proviamo a distruggere un attimo il comandante dei pirati facciamo un Kizuna Rush allora prendiamo un attimo a botte questo qui facciamo un attacco speciale dai no 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 Grazie a tutti! Ok quindi abbiamo sconfitto Cioè abbiamo conquistato quel territorio Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sconfiggere solamente Buggy dice Rufy Non solo sconfiggere o difendere il villaggio Va bene Continuiamo a fare un pochino di bordello Mentre ci danno la nostra prossima missione Le condizioni di sconfitta sono cambiate Quali sarebbero ora? Scusi che il rifugio di emergenza non venga conquistato Quindi dobbiamo andare al rifugio Ok eccoci nel prossimo territorio Guardate che bordello che c'è qui raga Non ci sto capendo niente Vabbè noi comunque continuiamo a dare mazzate a non finire Facciamo anche il Kizuna Rush Che è davvero una figata in questo gioco Questo Kizuna Rush E in pratica Se vedete ci permette di fare continui attacchi combinati con Zoro Allora Perfetto Anche questa missione è riuscita Abbiamo conquistato anche questo territorio E quindi la prossima cosa da fare Quale sarà? Perfetto Ok quella lì dovrebbe essere albida Quindi mi dice sono qui Andiamo a vedere subito Andiamo a raggiungere Vediamo se ci riusciamo E per arrivare il capitano dei pirati Non me ne importa niente Ecco qui E' proprio albida Quindi distruggiamola E vediamo cosa succede dopo Allora Andiamo con un Gam Gam Rifle Sconfiggi albida e compagnia Vabbè già lo sapevamo E già c'era andato una vita prima che uscisse scritto Volevo fare il Gam Gam Rifle Però non ce l'ho Me ne sono accorto solo ora Allora dai albida vedi di morire Vabbè non me ne importa niente Dai che è quasi morta eh Morta poi Sconfitta magari Ok Dai che ce l'abbiamo quasi fatta Vabbè non fa niente che andiamo a vuoto Dai dai colpiscilo Perfetto Aiuta Nami nell'avanzata E prendi il tesoro di Baggy Quindi raggiungiamo Nami Che si trova proprio qui Trovata Nami Eccola qui Quindi dobbiamo farla proseguire Secondo me dobbiamo accompagnarla Se ho capito bene no? Sì credo che dobbiamo accompagnarla Quindi vediamo un pochino Ok abbiamo fatto un grandissimo rato Perfetto E vediamo di distruggere ancora il Capitano dei Pirati Capitano dei Pirati Stai fermo Che altrimenti ti distruggo più del dovuto Allora Non voglio fare il Kizuna Rush Perché lo sprecherai soltanto tu Quindi Nami Vediamo di proseguire eh Non fermarti qui Ok sta proseguendo Nami Seguiamola quindi Ok abbiamo quindi aiutato Nami In questa missione Quindi dobbiamo sconfiggere di nuovo Albida e compagnia Però direi di sconfiggere prima un attimo Questo Capitano dei Pirati Perché ci hanno dato Credo la missione no? Allora andiamo a sconfiggere anche Quest'altro Capitano dei Pirati Guardate cosa ha in faccia raga Com'è strano Perfetto anche questo Capitano è andato Quindi la missione è riuscita Il potere di Zoro è aumentato Il potere eroe se non sbaglio ci l'ho scritto E quindi dove dobbiamo andare? Ok abbiamo trovato Albida Dovrebbe essere questa qui no? Vediamo No questo è il Capitano dei Pirati Attenzione Dove è finita Albida? Non trovo Albida eh Allora Vabbè che sta durando decisamente troppo Secondo me questo episodio eh Compeggiamo questo qui Ok missione è riuscita anche qui Ecco arrivare di nuovo Nami Quindi Qui c'è Quoi fanno Ataši no takara o uiti kana kia ike nai no jo! Te... te mei no takara da? Attari mai dešo? Kaizok semmon no doro boi no ataši ga Ima kaizok kara takara o ubattaんだから Kono takara wa ataši no moんだって iittin no! Tawaki! Nusunji maえば te mei no moenになると思ってん no ka! Te mei ha iittaiどう yu kioiku uけてきたんだ! Aku tou ga Aku tou ni sekkio? Jiron no baka baka shiita wa o tagai saama dešo? Kido na kaizok ni maigai o tada saれるほど Motsi chai naik tsumori daけど? Itee kotoa sore dake ka Kakuo wa dekiteen daroo na! Kakuo wa dekiteen daroo na!